Sindaco, allora state lavorando senza sosta con la ASL per individuare dei locali adatti per aprire un nuovo hub vaccinale, mancherebbe solo l'ufficialità, possiamo dire, si dovrebbe tornare al palafiere di Via Tirino e così? Questa settimana è esplosa la necessità di fare più vaccini rispetto a quelli che stiamo facendo al centro dell'ex stazione di Porta Nuova, sia per gli adulti che per i bambini. L'ASL mi ha informato di questo immediatamente, ma abbiamo visto le file che ci sono di persone che senza prenotazione sono andate a cercare di fare il vaccino. Allora mi sono messo subito in moto, ho telefonato al presidente Danelli, sempre disponibilissimo devo dire, gli ho chiesto quali spazi avesse al palafiere, mi ha detto che al primo piano di quell'edificio ha un'area di circa 1000-1500 metri quadrati che potrebbe essere utilizzata, faremo il sopralluogo immediatamente per verificare la possibilità di utilizzare quello spazio. Se sarà possibile sicuramente lo utilizzeremo, riorganizzeremo le vaccinazioni in quello spazio, lasciando anche il centro alla stazione perché così i pescaresi avranno più opportunità perché è importante vaccinarsi. Non possiamo scherzare con questo virus che è sempre così subdolo, aggressivo, ci sono troppi troppi casi di persone contagiate e quindi il comune come al solito si attiva, lo fa in tempi brevissimi. La comunicazione dell'ASG è arrivata l'altro ieri, noi ieri ci siamo attivati, già siamo operativi, stiamo trovando le risorse perché per ogni passaggio occorrono risorse economiche, le troveremo e quindi sono certo che all'inizio dell'anno con la disponibilità dei medici e degli operatori sanitari che l'ASL dovrà mettere a disposizione ma la collaborazione con l'ASL è pienissima. L'appello del sindaco di Pescara ai pescaresi, avete annullato tutti gli eventi ovviamente come in tutta Italia, insomma qual è il suo appello ai cittadini di Pescara? Noi abbiamo annullato tutte le iniziative, era giusto farlo in questo momento, purtroppo non possiamo festeggiare come vorremmo, come tutti vorrebbero, le feste natalizie riacquistano più il sapore della tradizione con i familiari, con i parenti più stretti, il numero non esagerato, dobbiamo stare attenti, speriamo che passi presto questa vicenda bruttissima che oramai stiamo vivendo da due anni, io da sindaco vorrei dire divertitevi tutti quanti in piazza, è un capodanno diverso ma i sentimenti per i familiari, per le tradizioni, per la nostra cultura, per la nostra religione ci sono sempre e queste sono le feste natalizie.